Ciao ragazzi, un video velocissimo per spiegarvi cosa è successo dato che probabilmente molti voi avranno visto che sono spariti i video sul canale. Non è una cosa volontaria e non è definitiva. Semplicemente mentre ero dal cellulare a fare un paio di cose sull'applicazione ufficiale di youtube mi è successo che sia bloccata e mentre l'olio cercavo di sbloccarla quando ho dovuto spegnere riaccendere riattivare tutto erano cancellati tutti i video vi immaginerete che non è stata una bella sorpresa comunque questo cosa comporta comporta il fatto che sarà uno stop del canale per dobbiamo riorganizzare ricaricheremo i video che abbiamo in backup e qualcuno lo rigireremo cogliendo l'occasione per farli meglio grazie anche all'amico Daniele che si sta curando la grafica ultimamente verrà un bel lavoro. Un'altra piccola inconveniente è che ho perso tutti i commenti a cui dovevo rispondere tutti i messaggi privati a cui dovevo rispondere di conseguenza se non vi ho risposto e ne avevo tanti durante la pausa delle ferie riscrivetemi oppure contattatemi via facebook sul gruppo Derma e Volo. In pratica è tutto qui perché alla fine volevo solo tranquillizzare chi mi ha scritto preoccupato che si fermasse tutto sia stati i primi a fare questo genere di video e vogliamo continuare a essere presenti e finché vi saremo simpatici come avete dimostrato fino adesso quindi abbiate solo un attimo di pazienza iscrivetevi a facebook e supportateci perché ne abbiamo veramente bisogno. Grazie a tutti Grazie a tutti